ciao ragazzi eccoci di nuovo sul canale dopo tanto tempo provo a portare un altro contenuto uno degli ultimi video forse per chi l'ha visto insomma chi l'ha seguito è stato relativo appunto per quanto riguarda gli utensili a una motosega della mccalloc per vedere come fare la corretta messa in moto di quel tipo di motosega a scoppio e appunto sempre per aggiornamento per chi avesse visto i video la musica ancora ce l'ho ma benissimo ho cambiato da poco la candela e anche la membrana mi ha dato qualche problemino l'ho sempre svuotata la serbatoio della miscela ma probabilmente insomma ecco si è seccata comunque ci sono gli anni di mezzo l'utilizzo è tutto in catena sostituite già 4 o 5 catene quindi ecco insomma e adesso ho deciso di prendere questa qua ovviamente non è in sostituzione a quella che ho già della mccalloc a scoppio anche perché comunque l'altra una discreta potenza poi per tagli un po più impegnativi per quanto possa essere insomma adatta l'altra ho deciso di prendere questa per una potatura un pochino più leggera e andiamo a vedere ecco un rapido unboxing non mi dilungherò troppo sulle caratteristiche anche perché probabilmente se state cercando questo video già più o meno sapete di cosa di parla e per lo più vi dirò ecco le mie impressioni andiamo ad aprire subito qui c'è il sacchetto immagino per riporla ma oddio mettere l'acqua dentro una volta usata viene fuori un pasticcio a sotto potrebbe tornare comodo questo magari per gli attrezzisti mettiamo qualche attrezzetto dentro e via ok manuali tutte le lingue del mondo tranne l'italiano no scherziamo non c'è l'italiano perfetto poi qui abbiamo il piccolo manuale Deplian con tutti i dispositivi e gli utensili della macchina linea 18v e ricordiamo che questa motosega alimentata a 18 volt sicuramente avrà voluto constatare l'acquisto il ragazzo poi magari si era su conto di questa leggera differenza di funzionamento la chiave per smontare il carter laterale e per il ten di catena giravide piatto ok catena anche questa aperta ecco la qua catena della ore con barra da 25 se non ricordo male il suo riballaggio addirittura originale ok l'appoggiamo tra poco copre barra proteggi barra con le scritte da entrambe le parti carino e la barra e vediamo un attimino meglio il corpo macchina allora mi piace un po' più leggera devo dire per essere solo il corpo macchina robuste devo dire già al tatto ci da l'impressione di un oggetto robusto ecco non è proprio la plastica a cui siamo abituati rispetto ad altri utensili ma vada se che il prezzo comunque è ben differente allora ok ma chi da duke 254 allora giusto ci devo a dire questa cosa perché ho visto controllando nel web che di questo modello ne esistono in vendita credo un paio e c'è una differenza nella barra ossia questa è la classica barra diciamo agricola permettetemi il termine e non c'era un altro modello con una barra da carving che serve diciamo per altri tipi di lavorazione insomma per incisioni anche sul legno e quant'altro e quindi diciamo la punta più rastremata più sottile questa è la classica barra da taglio ma credo che comunque non ci dovrebbe essere nessun tipo di problema nell'installare su questo corpo macchina appunto la barra da carving perché il corpo macchina è lo stesso quindi rapida occhiata tasto di accensione sicura e tasto di avviamento carter laterale alloggiamento slitta per la batteria batteria da 18 un cancio e qui come potete vedere c'è una vite agendo appunto su questa vite possiamo andare a regolare la quantità di olio che affluisce a barra tramite gli appositi fuori e quindi lubrificare di più o meno la barra specialmente all'inizio è consigliabile diciamo una maggior lubrificata vediamo adesso della proveremo nello specifico in questo video ma nel prossimo video andremo a vedere come è settata come regolata al fine di poterci appunto sistemare al meglio la faccenda 103 db per essere elettrica con 103 db non sono pochi poi andremo a verificare l'altra se non ricordo male quella scoppio era intorno ai 98 db di rumore ma anche lì ha da verificare bene impugnatura si devo dire famola anche se io diciamo sono mancino quindi mi fa spesso comodo impugnarla in questo modo e quindi capite bene che con la destra si viene bene anche solo con una mano però sembrano così non possiamo andare a rischiare quindi privilegi questo utilizzo qua insomma pugnatura sinistra mano destra sul pulsante di azione freno scatto quindi così è bloccato il funzionamento di avvio accidentale e ritorno un bello scatto deciso adesso andiamo a vedere il carter teniamo il carter questo era già un pochino lento una cosa carinissima il bullone non cade ha una parte interna che lo trattiene meno male anche perché vi immaginate insomma a doverla togliere per qualsiasi motivo come stiamo facendo il lavoro c'è il bullone cade questo foro che abbiamo visto qua invece per il tent di catena tendi catena che agisce tramite questa vite eccola qua fa avanzare o arretrare questo perno che è quello che poi da appunto la distanza della barra e quindi di conseguenza della catena dal motore e quindi dalla sua al suo albero ho rimontato questo per quale motivo perché tanto bene o a bilancina e andiamo a vedere quando solo il corpo macchina ce la faremo 2 kg e 74 75 so se si vede bene faccio vedere 2 kg e 75 ok ritogliamo il carter che avevamo già arrivato mettiamo la parte la barra eccola qua la catena oricon cogliatissima ok vediamo adesso andiamo a fare alcune regolazioni perché giustamente non si incontrano invece invece ok è molto lenta resistiamo subito ecco una cosa che stanno dando subito ragazzi ok questa è una micro regolazione che faccio adesso non gli darò la tensione che gli spetta però questo giravide è veramente scomodo è scomodissimo e anche a musica volendo è difficile anche trovargli una posizione in cui si tenga da sé ecco forse questa è l'unica posizione che riesco a trovare in cui riesco a montare barra e catena la catena è montata correttamente ovviamente ragazzi controllate sempre quando montate la catena che sia rivolta nel senso corretto appurato che il verso è quello corretto che cosa faccio ancora non l'ho stretta rimetto il carter lo accosto a mano perché tanto non è che serve anzi lo lasciamo un pochino lento tengo spinto in alto la barra con una catena e vado a serrare il tutto non vedi qua c'è il serbatoio dell'olio questo è l'olio praticamente della che va a lubrificare è tutto il meccanismo della catena e del movimento qui davanti quindi andrà riempito ovviamente prima dell'utilizzo ragazzi non avviatela in alcun modo perché andrete a rovinare la barra andrete a rovinare la catena e a creare delle attriti che sicuramente non fanno bene specialmente a un meccanismo tutto nuovo che non è stato ancora tra virgolette rodato ovviamente qui non è che abbiamo parliamo di rotaggio a livello di accoppiamento tra barra e catena e sistema di lubrificazione non è che abbiamo da regolare la carburazione come su una motosega a scoppio però ci sono dei accorgimenti anche qui bene come funzionerà per avviarla e tra l'altro il sistema mi piace molto perché una delle mie più grandi preoccupazioni era sicuramente gli avvii accidentali saranno un problema e invece no perché prima di procedere all'avvio bisogna fare alcune operazioni ossia armare il sistema tramite questo bottone il tasto diventerà illuminato che praticamente ci dirà che possiamo operare si abbassa la sicura così e poi si agisce se si arma però entro 8 secondi non viene premuto il tasto di avvio della motosega e sta stessa si rispegne qualche norma di precauzione utilizzate sempre il copre barra perché comunque evita di farci male a noi e a chiunque possa entrare in qualche modo accidentalmente in contatto anche con un oggetto fermo non so magari in cantina quindi copritela sempre perché comunque è vero che è spenta ma i taglienti sono ben affidati oltretutto la catena è nuova quindi vi assicuro che tagliano abbastanza bene in un altro video andremo a esaminare l'ambito batterie quindi vedremo quanto può durare con le batterie batterie originali batterie compatibili quale utilizzare quale vanno meglio ragazzi quale utilizzare lo devo subito quelle originali per un discorso di affidabilità per assistenza soprattutto per la garanzia sono tutti nuovi specialmente nessuno ci vederà in futuro utilizzare una batteria diversa ma è chiaro che è sempre a discapito vostro e dello strumento che state utilizzando un saluto a tutti e al prossimo video ciao